E il cavaliere lo dice al maschile e fatta la cosa e si balla, io per esempio gli dico Margherita e l'altro gli fa Margherito, ma infatti io dico Rosa, io penso un nome di un fiore, infatti una là con le due amiche e uno va verso la prima e dice Margherita, Margherito, allora verso l'altra dice Rosa e l'altro Rosa, allora verso l'altro va verso la Rosimena un po' coperta nell'ombra e gli dice Orchidea, se ti viene la prima e la guarda e fa Orchidio! Uno di un'altra dice